Perché se dovesse inserire me non andavo più la morte, ma andiamo avanti dai che sono abbastanza caldo. C'è un ragazzo sulla bicicletta, una qualità mia che porca miseria mi scampiscio. Vediamoci cosa succederà in questo caso, ma la camando è solo, e va bene. Quindi, va bene, va bene, mi hai lasciato questa lingua incredibile, e va bene, invena pure. Vedete, vedete, magari era solamente un signore che aveva a prendo, si è messo una coperta addosso, e uno va in bicicletta e in penna si trovano un tizio che li guarda vestito di bianco e cappucciato, identificati, l'altro non so se avete notato quando si sono sbagliati che cosa hanno iniziato a dire. Vedete, vedete, è un cassico verso, ma vabbè, cagate a parte, ma sbaglio a cui sparisce pure. Ma che perché questi video sono il tipo di una qualità brutta proprio, e così uno non riesce a capire se è reale offente? Ma bene, ragazze, va bene, non c'è bisogno di capire che cosa stanno dicendo. Penso che in quel momento si siano cagati leggermente in mano. Io gli avrei lanciato la bicicletta al mondo, ecco, un altro video di notte, forse sempre dentro ad una foresta, o soltanto una torcia, ma mi spiega in quel momento in quel momento. Ecco. E io lo so. No, io non ho veramente tutto questo, ma non ho capito, ma io lo so. Di notte, nelle foreste, non bisogna andare, ecco la torcia poi. Ma quando ti ammelo con tu amici, mi fai i grossi così, per illuminare tutta la foresta, non ho capito. C'è qui quando ti do una chiusura, non ho capito, se ne è no? Ci ho fatto, era pure me la pò. No, vabbè, io non ce la posso fare. Sono questi ragazzi che stanno facendo un campeggio, almeno qui il giorno. Dice qualcosa. No, vabbè, io non ho capito. No, vabbè. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì.